Salve a tutti. Le elezioni regionali in Umbria, che sono elezioni che hanno chiaramente un evidente e forte peso a livello politico nazionale, hanno pochi vincitori ma molti sconfitti. I vincitori sono sostanzialmente due, esclusivamente due, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il primo, dopo essere stato estromesso dal governo e messo ai margini della politica italiana, ha dimostrato invece di godere ancora dell'ampio sostegno del popolo italiano, confermandosi come il primo partito di gran lunga e arrivando a prendere in Umbria più della somma dei voti di Movimento 5 Stelle e PD. La seconda ovvia vincitrice è Giorgia Meloni, che continua a crescere nel voto degli italiani, supera il 10%, supera il Movimento 5 Stelle in Umbria e si piazza come terzo partito del panorama politico italiano e doppia Forza Italia, confermandosi la seconda colonna del centrodestra. Non si può dire invece che vinca Forza Italia. Il risultato del voto Umbro è estremamente deludente e viene riconfermata quella parabola discendente ormai irreversibile per quello che era stato un grande partito di massa, ma che insiste nel presentarsi come un partito moderato europeista, che insiste a guardare verso Renzi, verso il PD per creare maggioranze o linee politiche conservatrici rispetto ai decenni scorsi e viene regolarmente punito dagli elettori. Oltretutto Forza Italia rischia di divenire anche irrilevante da un punto di vista dell'alleanza, perché se come sembra e come sembrerebbe confermare il voto Umbro, Matteo Salvini e Giorgia Meloni da soli hanno la maggioranza, non hanno nessun bisogno di portarsi dietro Silvio Berlusconi, il quale peraltro non è neanche compatibile con l'altra alleanza in campo, cioè quella tra Movimento 5 Stelle e PD, perché l'ingresso di Berlusconi nella maggioranza giallofucsia, in qualunque tipo di maggioranza giallofucsia, trasformandola in una maggioranza giallofucsia bluet, sarebbe insopportabile anche per quei pochi elettori che continuano a votare Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è chiaramente il grande sconfitto delle elezioni, ma all'interno del Movimento 5 Stelle non tutti perdono alla stessa maniera. Quello che perde più di tutti è chiaramente Giuseppe Conte, che noi conoscevamo come un oscuro avvocato della società civile, chiamato dal Movimento 5 Stelle per la sua competenza giuridica a svolgere un pochettino il ruolo di notaio, a fare il garante del patto siglato tra Movimento 5 Stelle e Lega, ha tentato la scalata al Movimento 5 Stelle. L'ha tentata con il supporto di Beppe Grillo e di buona parte o la totalità del mainstream italiano e non solo ai danni di Di Maio. Conte ha imposto insieme a Grillo l'alleanza con il Partito Democratico e ha anche posto la sua figura come elemento centrale, come federatore e garante non più di un patto, ma di un'alleanza, quindi in una certa misura come capo politico del Movimento 5 Stelle che gli ha imposto un'alleanza strutturale con il PD. I risultati di questa politica sono stati un disastro, innanzitutto per il partito più vicino al Premier Conte, cioè il Movimento 5 Stelle, che perde in maniera clamorosa le elezioni in Umbria, senza che però il ruolo di Conte, che pure ci ha messo la faccia e è andato in Umbria, ha sponsorizzato questo esperimento delle alleanze anche locali con il PD, ma non ha portato nemmeno un voto al PD e anzi non ha frenato quell'emorragia che ormai c'è da tanto tempo degli elettori del PD che però comunque si riconferma come il partito leader dell'area conservatrice, cioè di quell'area che vuole mantenere sostanzialmente identici o modificare solo in parte i dogmi e l'approccio alla politica economica italiana che è stato ottenuto nei decenni scorsi. Ma insieme a Conte a perdere in maniera più vistosa sono i suoi sponsor a livello del partito, a livello del Movimento, a livello italiano e a livello internazionale. A livello del partito, quindi del Movimento 5 Stelle, a perdere sono chiaramente Beppe Grillo, che ha imposto anche con toni per certi aspetti perentori e per certi aspetti deliranti il nuovo corso del 5 Stelle alleato con il PD, perde quell'ala vicina a Fico che pensa che il Movimento 5 Stelle sia fondamentalmente una costola dei partiti progressisti europei, ma perdono soprattutto l'establishment tutto intero a livello italiano, mediatico, culturale, giornalistico, eccetera, di esperti, di opinion leader, di giornalisti e di firme dei quotidiani più importanti che hanno fortemente sponsorizzato l'operazione Movimento 5 Stelle-Lega, così come perdono gli sponsor a livello internazionale, cioè innanzitutto quei poteri forti finanziari ed economici come George Soros che rifiutano l'idea stessa che un paese e l'Italia in particolare possa varare politiche di natura sovranista e lontane dai dogmi del liberismo, ma perde in maniera clamorosa l'establishment europeo, quello stesso establishment che ha creato la maggioranza Ursula a Bruxelles e che ha sponsorizzato una sua riedizione in Italia, nazionale in Italia, e che ora vede la maggioranza a Bruxelles non riuscire neppure a partire, mentre il modello italiano della coalizione Ursula che perde clamorosamente le elezioni e rischia di sgretolarsi nell'arco di pochissime settimane dal suo varo. Ma ad essere sconfitti all'interno del 5 Stelle sono anche i votanti della piattaforma Rousseau, quei 60.000 iscritti a una piattaforma privata che hanno dimostrato in maniera chiarissima di non essere un campione rappresentativo non soltanto del popolo italiano, ma neppure di quegli 11 milioni di elettori che hanno dato fiducia al 5 Stelle, ma che a differenza dei votanti della piattaforma Rousseau non sono affatto disposti ad accettare supinamente qualunque decisione presa dai vertici e da Beppe Grillo, anche quando palesemente contrari a quelle che sono le ragioni per cui si era votato il Movimento 5 Stelle. Ma a perdere poi a livello ideologico è nuovamente il pensiero unico liberista che continua a cercare di riproporre le sue ricette come immodificabili e eterne ai vari popoli i quali le rifiutano ormai in ogni angolo del mondo e i tentativi di creare attraverso varie operazioni di palazzo, mediatiche o giudiziari o di altro genere, maggioranze liberiste che siano appoggiati dal popolo fallisce sempre e fallisce per una ragione semplice. La ragione è che il consenso si ottiene esclusivamente attraverso un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini che nei decenni scorsi, negli ultimi tre decenni almeno, sono drammaticamente peggiorate, sia a livello italiano che a livello occidentale e europeo. Per invertire questa situazione è necessario applicare ricette drasticamente diverse, opposte rispetto a quelle applicate negli ultimi anni, che però sono le uniche previste dal pensiero unico liberista e dalle istituzioni europee che di quel pensiero unico sono un'espressione. Quindi senza uno scontro frontale con questo pensiero, senza un ripensamento del paradigma economico e di conseguenza una frattura con l'Europa, la quale invece continua ad imporre quello stesso paradigma economico, non sarà possibile ottenere il consenso, perché non sarà possibile migliorare realmente, visibilmente, le condizioni di vita dei cittadini. E tutte le altre misure palliative, come il taglio dei parlamentari, che è una misura economicamente inutile che non va ad incidere minimamente sulla vita dei cittadini e però ha un costo da un punto di vista della rappresentatività e della democrazia, ne è un esempio lampante. Con queste misure non si ottiene il consenso, specialmente quando ci si allea con un partito dichiaratamente, chiaramente e palesemente liberista ed europeista, che quindi vuole mantenere l'Italia all'interno di quelle politiche che si sono rivelate disastrose per i cittadini, per i lavoratori, per le classi medie e per le classi lavoratrici. Ma in questo scenario c'è un altro grande sconfitto di cui nessuno parla, è Papa Francesco Bergoglio che ha imposto una trasformazione alla Chiesa, un mutamento radicale nella Chiesa simile a quello che è avvenuto nel Movimento 5 Stelle di recente, trasformando l'idea del cattolicesimo che c'era prima in qualcosa di radicalmente diverso e di molto vicino a una sorta di visione politicamente corretta e laica della politica e della vita, Bergoglio in coerenza con questo progetto si è speso moltissimo per l'alleanza giallo-verde e soprattutto ha attaccato in maniera frontale, cosa abbastanza inedita per un pontefice, un leader politico cioè Matteo Salvini. Proprio in quell'Umbria che ha dato i Natali a San Francesco, da cui l'attuale Papa ha preso il nome, la sconfitta della linea di Bergoglio e la vittoria del nemico giurato del Papa, ossia di Matteo Salvini, è particolarmente significativa anche da un punto di vista simbolico e anche i cattolici si dovrebbero domandare se è corretto fare che la Chiesa faccia smaccatamente politica oltretutto dalla parte perdente. Se il video ti è piaciuto e pensi che l'informazione libera sia indispensabile, sostienici e aiutaci a crescere. Nella descrizione sotto il video troverai tutti i riferimenti per dare il tuo contributo.